Hai mai sentito parlare di homestaging? Hai la tua casa in vendita e il tuo consulente immobiliare ti ha proposto un allestimento? Ma che cos'è? Come funziona? In realtà non esiste una traduzione letterare di homestaging. Tecnicamente si potrebbe definire come valorizzazione immobiliare. In parole semplici se la tua casa è vuota viene imbiancata, pulita e arredata con mobili veri o un'imitazione realistica di mobilia per far comprendere meglio come utilizzare gli spazi e gli ambienti. Diversamente se vivi nella casa in vendita si tratta di imbiancare se necessario, riordinare gli ambienti, rimuovere le foto e su pellettili per rendere più neutra possibile la casa e far sì che chi la visita possa immaginare i propri oggetti dentro. L'homestaging è uno strumento molto potente e aiuta a vendere in tempi brevi e con ottimi risultati. Ma deve essere eseguito da professionisti del settore, altrimenti anziché aiutare può peggiorare la situazione e la trattativa. E tu? Hai visto un allestimento di homestaging? Ti incuriosisce? Scrivimi nei commenti i tuoi dubbi e li affronteremo assieme. Ci vediamo nel prossimo video!